Per autunno e inverno 2016 e 2017 presentiamo il nostro nuovo modello che si chiama Cristallo Lady GTX. La scarpa è costruita in un materiale pelle scamosciata e mesh, equipaggiata con una suola Eindel profilata in gomma con un ammortizzante EVA. Grazie alla sua fodera in Gorat, perfettamente per passeggiate sulla neve ma anche per fare un giretto in città o anche come scarpa dopo sci. Tutto chiuso in un peso leggero e un design rinnovato. Grazie a tutti.